In tempi di barricate contro i migranti, Bari lancia un'iniziativa per integrarli che coinvolge altre 9 città italiane. Si chiama Identità e Incontro ed è promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la collaborazione del CONI. L'obiettivo è mettere a confronto culture diverse per farle conoscere e convivere. Fino a sabato nel Fortino Sant'Antonio di Bari si potrà visitare gratuitamente la mostra fotografica Fornelli d'Italia, una raccolta di immagini e storie di chef di varie etnie immigrati nel nostro paese che si sono distinti in importanti ristoranti italiani. Sabato in Piazza del Ferrarese, Melting Potty Musica, si esibirà l'orchestra di Piazza Vittorio che mescola 16 elementi italiani, brasiliani, cubani, ungheresi, senegalesi e indiani. Ad ogni evento sarà distribuito il Vademecum l'immigrazione, come, dove e quando, che accompagna gli stranieri nel percorso di integrazione e li aiuta nei problemi di ogni giorno, dal contratto di lavoro all'iscrizione dei figli a scuola, dal rilascio della patente all'apertura di un conto corrente bancario.